Buon pomeriggio a tutti. Oggi voglio parlarvi brevemente di Natalia Ginsburg, ma soprattutto voglio leggervi un passo tratto dall'ultimo dei racconti raccolti in questa raccolta di racconti, Le piccole virtù. È un testo che è uscito nel 62, un anno prima della pubblicazione di Lessico Familiare, che è il testo più noto, più conosciuto di Natalia Ginsburg, e raccoglie, Le piccole virtù, una serie di racconti saggi che erano stati pubblicati prima in varie riviste, eccetera. Dunque, vi leggerò questo passo che fa parte dell'ultimo racconto, che porta proprio il titolo Le piccole virtù, e parla, il tema chiave è legato all'educazione dei figli, alla vocazione, al ruolo di genitori in quanto educatori dei loro figli. Un passo che mi è piaciuto molto e che voglio condividere con voi. Natalia Ginsburg, due parole proprio sintetiche su di lei, è nata nel 1916 e da due personaggi, Giuseppe Levi, che era anche un professore, uno scienziato, un ortopanto, un medico in sostanza, e anatomopatologo, che è un professore di università, e da tanzi Lidia, che era la madre cattolica milanese, che era sorella tra l'altro di Drusilia, che è stata la mosca, la moglie di Montale. Il padre invece è ebreo, lei è cresciuta a Torino e ha avuto quindi anche un'educazione, comunque una formazione di tipo laico, ha vari fratelli e tutti hanno militato, tutti antifascisti come il padre. Importante poi è il matrimonio di Natalia con Leone Ginsburg, del quale ha sempre portato il cognome, appunto quindi Ginsburg è proprio il cognome del marito. Leone Ginsburg, che sapete è stato un, tra l'altro era di origine russa e insegnava professore di letteratura russa all'università, antifascista, quindi un ruolo chiave all'interno delle Inaudi, e che ha militato appunto come antifascista, è stato al confino, quindi con lei e i loro tre figli hanno passato tre anni, mi pare, al confino in Abruzzo, in un piccolo paese dell'Abruzzo, dal 40 al 43. Ecco, dopo rientrato a Roma lui era stato anche imprigionato e morto sotto tortura dai nazissi di Leone Ginsburg, quindi lei è rimasta vedova con i tre bambini, ha iniziato a lavorare ed allora poi sempre continuato all'interno delle Inaudi. Quindi Calvino era amica di Pavese, quindi quello era il mondo in cui lavorava e si è formata Natalia Ghismo. Ha scritto, poi si è risposata con un professore, con un inglese, professore di un anglista, Gabriele Baldini, ha vissuto a Londra, lui insegnava appunto letteratura inglese, da lui ha avuto due figli, tutti con handicap, uno tra l'altro morto subito dopo un anno di vita. E ha continuato, poi ha cominciato a scrivere, lei scriveva fin da ragazza, ha iniziato con dei primi racconti, tra l'altro interessante il particolare che uno dei suoi racconti, fatto leggere a Croce, non l'aveva apprezzato, insomma dicendo che doveva ancora crescere molto. E poi ha continuato a scrivere racconti e anche molti testi, insomma più noto di tutti appunto è l'essico familiare del 63, con cui ha vinto lo strega, ma molti altri scritti. Le voci della sera, per esempio, che è stato subito prima di… ma bene altri testi, vi potrei citare un po' i più famosi, Caro Michele del 73, La vita immaginata del 74, Mai devi domandarmi 70, appunto il romanzo epistolare La città e la casa. Nell'83 la famiglia Manzoni, ecco, ha scritto anche diverse commedie, famosa Etio sposato per allegria del 65. E negli anni poi 80, nel 69 è morto il secondo marito, negli anni 80 è stata eletta anche nel Partito Comunista, come nel Parlamento, nelle figlie del Partito Comunista. E un particolare interessante che mi ha anche colpito è che negli anni 80, nell'88, ha scritto per l'unità un articolo in cui difendeva la presenza del crocifisso all'interno delle scuole. C'è una pessima luce oggi qua giù, però purtroppo non posso farci niente, mi spiace molto ormai procedo così. Ecco, allora questo un po' per darvi un quadro di questa autrice che probabilmente molti di voi già conosceranno e avrete letto di lei. Io recentemente ho letto questa raccolta, che non avevo mai letto, Le piccole virtù, e davvero ve la consiglio, ve la consiglio caldamente, perché sono dei racconti veramente stupendi. C'è per esempio in uno di essi un ritratto anche di Pavese, di cui lei era carissima amica, che è veramente bello, profondamente umano. Ci sono alcuni racconti, il primo racconto inverno in Abruzzo, in cui racconta proprio di quel suo periodo, che ha quei tre anni che ha trascorso in quel piccolo paese con i figli piccoli durante la guerra al confine, con il marito. Sono proprio una serie di racconti. Quello che amo moltissimo, che è stupendo per me di lei, è questo suo linguaggio così semplice, se così vogliamo, ma curato ovviamente, una semplicità che non è assolutamente banale. È un linguaggio aderente alle cose, aderente alla realtà, dove non c'è mai un'interpretazione, non si perde la Ginzburg in riflessioni, in pensieri, ma il pensiero passa attraverso le cose. È una prosa dove c'è proprio al cuore gli oggetti anche, proprio le cose, la realtà, i fatti, fatti spesso quotidiani, fatti di vita di tutti i giorni, come il racconto bellissimo le scarpe rotte, appunto, per esempio. È una prosa dove domina la concretezza della realtà. Così è chi l'ha letto in Lessico Familiare, dove c'è proprio tutta la vita della sua famiglia che lei racconta, mantenendo proprio l'aderenza piena, in quel caso, alla realtà, racconta la storia della sua famiglia, a partire dal Lessico, proprio da quelle che erano alcune frasi, alcune parole usate, comuni nella sua famiglia. Ed è proprio dalle parole che lei passa nel ricordare, nel rimembrare episodi di vita della sua famiglia che per chiunque l'ha letto resteranno impressi nella mente, indimenticabili, legito in montagna, e anche le parole che erano tipiche di quella famiglia. E inevitabilmente diventa poi un linguaggio universale, perché ciascuno nel leggere ritorna al ricordo di sé, fa memoria, invitato a fare memoria della sua infanzia, della sua famiglia, del suo lessico familiare. Ecco. E anche quello che io adesso vi leggerò, questo passo, parla di famiglia, parla in particolar modo di educazione, di figli, insomma. E niente, ci tenevo semplicemente a leggervi un passo, proprio anche per darvi un assaggio concreto della sua scrittura. Ultimamente faccio così in molti dei miei video. Mi piace proprio leggervi dei passi, perché questo secondo me è il modo migliore per invitarvi a leggere il testo completo, insomma, e anche per familiarizzare con la lingua e con i contenuti degli autori che vi propongo, dove di certo non posso essere esaustiva parlando di loro in questi video che faccio. E che tra l'altro poi scarico tutti nel mio canale YouTube Laura Valera, che vi invito ad andare a visitare e anche a iscrivervi, magari attivando le notifiche, così sarete avvisati ogni qualvolta aggiungerò appunto un nuovo video nelle varie playlist. La playlist ovviamente più ricca di video è quella in cui chiamata inviti alla lettura, dove faccio delle recensioni di libri che vi invito a leggere o dove leggo alcuni passi appunto di questi. Adesso però mi taccio e vi leggo dalle piccole virtù. L'edizione che ho io è in Audi, pagina 132, ed è in pratica la conclusione dell'ultimo di questi racconti, che mi porta proprio il titolo Le piccole virtù. 7. Ma non dobbiamo lasciarci prendere, noi, i genitori, dal panico dell'insuccesso. I nostri rimproveri debbono essere come raffiche di vento, di temporale, violenti ma subito dimenticati. Nulla che possa oscurare la natura dei nostri rapporti con i nostri figli, intorpidarne la limpidità e la pace. I nostri figli, noi siamo là per consolarli se un insuccesso li ha dolorati. Siamo là per fargli il coraggio se un insuccesso li ha mortificati. Siamo anche là per fargli abbassare la cresta se un successo li ha insuperbiti. Siamo là per ridurre la scuola nei suoi umili ed angusti confini. Nulla che possa ipotecare il futuro, una semplice offerta di strumenti fra i quali forse è possibile sceglierne uno di cui giovarsi domani. Quello che devi starci a cuore nell'educazione è che nei nostri figli non venga mai meno l'amore alla vita. Esso può prendere diverse forme e a volte un ragazzo svogliato, solitario e schivo non è senza amore per la vita né oppresso dalla paura di vivere, ma semplicemente è stato di attesa, intento a preparare se stesso alla propria vocazione. E che cos'è la vocazione di un essere umano, se non la più alta espressione del suo amore per la vita? Noi dobbiamo allora aspettare accanto a lui che la sua vocazione si svegli e prenda corpo. Sentite bene? Ve lo rileggo. Usa questa parola, parla di vocazione quindi, no? Sentite cosa dice. Noi dobbiamo allora aspettare accanto a lui che la sua vocazione si svegli e prenda corpo. Il suo atteggiamento può somigliare a quello della talpa o della lucertola che se ne sta immobile fingendosi morta, ma in realtà fiuta e spia la traccia dell'insetto sul quale si getterà con un balzo. Accanto a lui, ma in silenzio e un poco in disparte, noi dobbiamo aspettare lo scatto del suo spirito. Noi non dobbiamo pretendere nulla, non dobbiamo chiedere o sperare che sia un genio, un artista, un eroe o un santo. Eppure dobbiamo essere disposti a tutto. La nostra attesa e la nostra pazienza deve contenere la possibilità del più alto e del più modesto destino. Bellissimo, no? Qui vado adesso avanti a leggervi. Queste parole, questo richiamo alla vocazione, il figlio che ha la vocazione e che noi dobbiamo aspettare, no? Aspettare questa pazienza del genitore che così poco oggi sembra essere coltivata, no? Non dobbiamo chiedere o pretendere che sia un genio o un artista, ma essere aperti a tutte le possibilità. Vado avanti a leggere, perché mi sembra molto interessante. Una vocazione, una passione ardente ed esclusiva per qualcosa che non abbia nulla da vedere col denaro, la consapevolezza di poter fare una cosa meglio degli altri e amare questa cosa al di sopra di tutto è la sola e unica possibilità per un ragazzo ricco di non essere per nulla condizionato dal denaro, di essere libero di fronte al denaro, di non sentire fra gli altri né l'orgoglio della ricchezza né la sua vergogna. Egli non si accorgerà neppure degli abiti che porta, dei costumi che lo circondano e domani sarà capace di qualunque privazione perché l'unica fame, l'unica sete sarà in lui la sua passione stessa che avrà divorato tutto quanto è futile e provvisorio, l'avrà spogliato di ogni abitudine o atteggiamento contratto nell'infanzia e regnerà sola sul suo spirito. Una vocazione è l'unica vera salute e ricchezza dell'uomo. Ok, sentite, quindi proprio questa sottolineatura che la Ginzor fa sulla parola vocazione, cioè bisognerebbe dei figli stare in ascolto, attendere con pazienza, saper cogliere quella che è la loro vocazione, no? Perché la loro vocazione è quello che li salva, lei dice in un certo senso. Sentite un po', andiamo avanti. Quali possibilità abbiamo noi di svegliare e stimolare nei nostri figli la nascita e lo sviluppo di una vocazione? Non ne abbiamo molte e tuttavia ne abbiamo forse qualcuna. La nascita e lo sviluppo di una vocazione richiede spazio, sentite bene, spazio, spazio e silenzio, dice la Ginzor. Ve lo rileggo. La nascita e lo sviluppo di una vocazione richiede spazio, due punti, spazio e silenzio, due punti, il libero silenzio dello spazio. Il rapporto che intercore tra noi e i nostri figli deve essere uno scambio vivo di pensieri e di sentimenti e tuttavia deve comprendere anche profonde zone di silenzio. Deve essere un rapporto intimo e tuttavia non mescolarsi violentemente alla loro intimità. Deve essere un giusto equilibrio tra silenzio e parole. Sentite bene cosa dice la Ginzor. Molto interessante. Vado avanti a leggere. Quindi lasciargli uno spazio di silenzio. Noi dobbiamo essere importanti per i nostri figli e tuttavia non troppo importanti. Dobbiamo piacergli un poco e tuttavia non piacergli troppo perché non gli salti in testa di diventare identici a noi, di copiarci nel mestiere che facciamo, di cercare nei compagni che si scelgono per la vita la nostra immagine. Noi dobbiamo essere con loro in un rapporto d'amicizia eppure non dobbiamo essere troppo i loro amici perché non gli diventi difficile avere dei veri amici a cui possano dire cose che tacciano con noi. La loro ricezione ricerca ad amici, la loro vita amorosa, la loro vita religiosa, la loro ricerca ad una vocazione è necessario che siano cinte di silenzio ed ombra che si svolgono in disparte da noi. Mi si dirà che allora la nostra intimità coi nostri figli si riduce a ben poca cosa. Ma nei nostri rapporti con loro deve essere contenuto tutto questo per sommi capi e la vita religiosa e la vita dell'intelligenza e la vita affettiva e il giudizio sugli esseri umani. Noi dobbiamo essere per loro un semplice punto di partenza, offrì il trampolino da cui spiccheranno il salto e dobbiamo essere là per un soccorso se un soccorso sia necessario. Essi debbono sapere che non ci appartengono ma noi sì apparteniamo a loro, sempre disponibili, presenti nella stanza vicina, pronti a rispondere come sappiamo ad ogni interrogazione possibile, ad ogni richiesta. Bellissime queste parole. Vado avanti perché è veramente secondo me molto... c'è una luce pessima in questo video ma pazienza. È veramente molto significativo, questo giusto equilibrio, lo spazio che gli va lasciato, non essere troppo invadenti, questo giusto equilibrio. Sentite ancora un po'. Sentite questo passaggio finale ma è illuminante. E se abbiamo una vocazione noi stessi, se non l'abbiamo tradita, se abbiamo continuato attraverso gli anni ad amarla, a servirla con passione, possiamo tenere lontano dal nostro cuore, nell'amore che portiamo ai nostri figli, il senso della proprietà. Se invece una vocazione non l'abbiamo, o se l'abbiamo abbandonata e tradita per cinismo, o per paura di vivere, o per un malinteso amor paterno, o per qualche piccola virtù che si è installata in noi, allora ci aggrappiamo ai nostri figli come un naufrogo al tronco dell'albero. Pretendiamo vivacemente da loro che ci restituiscono tutto quanto gli abbiamo dato, che siano assolutamente e senza scampo quali noi li vogliamo, che ottengano dalla vita tutto quanto a noi è mancato. Finiamo col chiedere loro tutto quanto può darci soltanto la nostra vocazione stessa. Interessantissimo eh questa cosa? Ok, quindi se noi abbiamo abbandonato la nostra vocazione, rischiamo di... i nostri figli diventano il nostro capro espiatorio e quindi non sappiamo più stare in quel giusto equilibrio tra loro, ma vediamo in loro, cerchiamo, vorremmo che loro realizzino quello che noi non abbiamo fatto. Ok, questo giusto equilibrio si perde. Attenzione, vogliamo che siano in tutta opera nostra, come se per averli una volta procreati potessimo continuare a procrearli lungo la vita intera. Vogliamo che siano in tutta opera nostra, come se si trattasse non di esseri umani, ma di opera dello spirito. Ma se abbiamo noi stessi una vocazione, se non l'abbiamo rinnegata e tradita, allora possiamo lasciarli germogliare quietamente fuori di noi, circondati dall'ombra e dallo spazio che richiede il germoglio d'una vocazione, il germoglio d'un essere. Ok, quindi la Gesù ritorna su questa parola vocazione, ci ritorna, ok, lei che non era una credente, quindi questa parola in lei non ha nessun connotato, comunque cattolico, cristiano, insomma, ovviamente. capito bene, questo aspetto che dice è bellissimo, lo spazio circondati dall'ombra e dallo spazio che richiede il germoglio d'una vocazione, il germoglio di un essere, quindi ombra e spazio hanno bisogno, un giusto equilibrio, un giusto spazio. E che cosa ci permette di garantire loro questo giusto spazio, dice la Gesù? Avere noi stessi una nostra vocazione, ovviamente, nella quale essere impegnati, perché ciascuno ha la sua. Ok, sentite il finale. Questa è forse l'unica reale possibilità che abbiamo di riuscire loro di qualche aiuto nella ricerca di una vocazione, avere una vocazione noi stessi, conoscerla, amarla e servirla con passione. Perché l'amore alla vita genera amore alla vita. Vi rileggo questa frase finale con cui si conclude il racconto Le piccole virtù e si conclude anche l'intera raccolta di racconti Le piccole virtù. Ve la rileggo perché è bellissima. Questa è forse l'unica reale possibilità che abbiamo di riuscire loro di qualche aiuto nella ricerca di una vocazione. Avere una vocazione noi stessi, conoscerla, amarla e servirla con passione. Perché l'amore alla vita genera amore alla vita. Bellissimo. E questa chiusura sull'amore alla vita vi ricordo che era anche l'inizio del passo che vi ho letto, dove diceva che quello che bisogna trasmettere ai figli non è tanto le piccole virtù ma le grandi virtù, dirà all'inizio di questo passo. Anzi magari adesso vi leggo anche la prima frase. Vi leggo anche la prima frase che così capite. E la più grande virtù che bisogna trasmettere ai figli è l'amore per la vita, aveva detto, no? Quello che deve starci a cuore nell'educazione è che nei nostri figli non venga mai meno l'amore alla vita. E come si può trasmettere questo amore alla vita. Amando noi per primi la vita attraverso l'amore della nostra vocazione e l'impegno e la passione costante nel corso di tutta la vita per realizzarla. Che come sappiamo non ci basta una vita, no? Non l'avremo mai conclusa. È un cammino. Quindi i nostri figli forse hanno bisogno proprio di vedere genitori che vivono la loro vita con passione cercando di realizzare quella che è la loro vocazione. Questo è l'esempio migliore che un genitore può dare a un figlio. E come può trasmettere a lui questo amore per la vita? Lasciandogli anche il giusto spazio, il giusto silenzio, l'ombra, l'attesa, la pazienza perché possa lui stesso trovare, mettersi alla ricerca della sua vera vocazione e trovando la lavorandoci giorno dopo giorno con pazienza, con costanza, con disciplina. E penso che queste parole insomma siano davvero estremamente belle e illuminanti. Quindi vi invito proprio a leggere le piccole virtù della Ginzo e magari vi leggo anche la frase di apertura di questo stesso racconto che è anch'essa molto carina. Ve lo leggo. Si apre così proprio il racconto. Per quanto riguarda l'educazione dei figli, penso che si debbano insegnare loro non le piccole virtù ma le grandi, non il risparmio ma la generosità e l'indifferenza al denaro, non la prudenza ma il coraggio e lo sprezzo del pericolo, non l'astuzia ma la schiettezza e l'amore della verità, non la diplomazia ma l'amore al prossimo e l'abbregazione, non il desiderio del successo ma il desiderio di essere e di sapere. Di solito invece facciamo il contrario, ci affrettiamo a insegnare il rispetto per le piccole virtù fondando su di essa tutto il nostro sistema educativo. Scegliamo in questo modo la via più comoda perché le piccole virtù non racchiudono alcun pericolo materiale e anzi tengono al riparo dei colpi della fortuna. Trascuriamo di insegnare le grandi virtù e tuttavia le amiamo e vorremmo che i nostri figli li avessero ma nutriamo fiducia che scaturiscano spontaneamente nel loro animo un giorno a venire, ritenendole di natura istintiva mentre le altre, le piccole, ci sembrano il frutto di una riflessione di un calcolo e perciò noi pensiamo che debbano assolutamente essere insegnate. In realtà la differenza è solo apparente, anche le piccole virtù provengono dal profondo del nostro istinto, da un istinto di difesa, ma in esse la ragione parla, sentenzia, diserta, brillante avvocato dell'uncolumità personale. Le grandi virtù sgorgono da un istinto in cui la ragione non parla, un istinto a cui mi sarebbe difficile dare un nome e il meglio di noi è in quel mutuo istinto e non nel nostro istinto di difesa che argomenta, sentenzia, disserta con la voce della ragione. Quest'ultimo periodo è un pochino più complicato e bisognerebbe leggerlo con calma e starci un attimo a riflettere, ma in sostanza l'anatliagismo ci dice che in fondo bisogna trasmettere ai nostri figli le grandi virtù, volare alto, cioè non certo insegnare i grandi valori, non certo la furbizia e quelle piccole arti che servono alla sopravvivenza, ma trasmettere grandi ideali, grandi valori, come ha detto prima in una parola la passione per la vita. E qui mi fermo, insomma penso che davvero ci sia da riflettere, ecco ci sia tanto da riflettere. E vi consiglio di tornare a leggere Natalia Gisburg, farò degli altri video, perché ci sono degli altri passi, per esempio da un racconto intitolato i rapporti umani, i rapporti umani è un racconto bellissimo, un po' lungo, saranno una ventina di pagine, forse 17, 17-20 pagine, i rapporti umani, un bellissimo racconto e magari ve ne leggerò alcuni passi in un altro video. E così, insomma ci sono delle riflessioni molto belle, soprattutto un linguaggio così concreto, mi piace molto lo stile di Natalia Gisburg, il suo stile legato alle cose, alla concretezza, una scrittura semplice, piana e veramente bella, bellissimo anche il racconto dove ci dà il ritratto di Pavese, di cui lei era carissima amica ed è veramente bello sentire Pavese descritto e raccontato da lei. E basta, insomma qui mi fermo, non voglio dilungarmi. Buon pomeriggio e buone letture. Un saluto a Mercedes, che la vedo in diretta a vedere il video che sto trasmettendo qui su Facebook, ma scaricherò sul mio canale YouTube. Ciao a tutti!